Musica Weee bella a tutti ragazzi e benvenuti ad un mio nuovo video Io sono Xyuder e oggi ragazzi un video abbastanza rilassante e divertente Oggi ragazzi faremo una nuovissima challenge insieme Intanto ragazzi avete visto ieri è uscita la nuovissima skin del tenero difensore Non potevo non comprarla raga non potevo non comprarla È meravigliosa è qualcosa di meraviglioso Oggi ragazzi voglio fare con voi la one chest challenge Che cosa vuol dire? Vuol dire che adesso atterrerò Aprirò il primo chest e da lì utilizzerò solamente l'arma che ci sarà al suo interno Posso aprire altri chest ma non posso prendere altre armi Quindi proveremo a portarci a casa la partita solamente con il one chest challenge Intanto non potevo non potevo assolutamente ragazzi non prenderlo Non potevo perché anche il deltaplano è troppo troppo figo Vediamo vediamo proviamo subito questo chest ragazzi Mi fa troppo spaccare questo deltaplano Ok chest Dai Va bene con la mitraglia ragazzi Va bene con la mitraglia Ok possiamo prendere tutto il resto ma non possiamo prendere altre armi Possiamo anche aprirli c'è stai volendo Magari sono dentro le granate le cose Oh 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 Sono uno scar silenzialto Siamo in 11 Oh lo so che non ho trovato nessuno raga che ci devo fa? Eh scusa non è che posso buttarmi di prepotenza nei fight violenti a fare il violento Siamo in 10 attenzione Oh intanto raga non ve l'ho ancora ricordato ma dai eh Mi raccomando mettete un bel pollicione in su Se vi piacciono anche le mie challenge raga Fatemelo sapere fatemelo sapere Sapete che io porto le news principalmente i leaks su Fortnite Ma ogni tanto ci sta anche divertirsi con un video diverso dal solito C'è ancora un chest qua Quindi mi raccomando eh Supportate supportate ragazzi con i vostri like E con le vostre iscrizioni Niente di che Siamo in 9 Si fa abbastanza interessante raga Attenzione Quelle sono? Che cosa sono quelle? Dimmi che sono altre granate esplosive Ma è impossibile non le puoi trovare a terra così No infatti è una doppietta che purtroppo Non possiamo recuperare Siamo contro la safe manca un minuto e 08 Cerchiamo di scendere Da un punto dove non siamo troppo visibili Avanziamo Siamo in 9 Allora Questo è il punto perfetto per Rimanere ma non sappiamo Scusate non sappiamo Dove possa essere gente Attenzione Siamo in 7 A partire si fa molto interessante adesso ragazzi Ma per davvero Ce la potremmo fare Ce la potremmo fare Vai Con molta attenzione Anche alla possibilità che abbiano Messo delle trappole Siamo in 9 Siamo in 9 Attenzione così Siamo sempre in 7 ragazzi Molto difficile È difficile di vincolarsi qua Ma noi ce la facciamo comunque Una slurpina Peccato che non sono andate a segno alle trappole Attenzione 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 Partita ancora abbastanza interessante Sono abbastanza imboscati eh Lui non penso che sospetti Bello quel drop Ci provo Ci provo Ci provo Ci provo ci provo Potrebbe essere una pistolata Ma ci provo ragazzi Attenzione Ok Ok si scanino di là Puntiamo prepotentemente al drop Non so bene cosa ci posso trovare io di buono in questo drop Vediamo Vediamo Via così Vai 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 Torno in frattarti Torno in frattarti È difficilissimo Riuscire a mantenere I nervi saldi Se facessi anche una kill sarebbe Sarei un grande C'è gente che si scanna di là Noi ce ne Siamo in 6 Me ne frego altamente Potrebbe anche essere solo killato Per quello che mi riguarda Non siamo in safe qua Non so bene che abbia avuto la meglio Cerco di non dare troppo nell'occhio Sono ancora in safe Sono pessima ragazzi Istruzione pessima Più che pessima questa situa Siamo in 3 Mi rendete conto che è una follia Quella che sto facendo Oh mio Dio Oh 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 non so cosa dire siamo uno contro uno non so cosa dire raga che grande challenge attenzione nooo mi ha toccato per un pelo la safe sarebbe anche quasi potuta vabbè dai raga la prossima proverò peccato potevo azzardare potevo azzardare vabbè ragazzi io spero che questa challenge vi sia piaciuta vi ringrazio tantissimo per averla guardata vi abbraccio forte vi mando un bacione noi ci vediamo domani con la news ciao 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 ciao